guardo un po' di notizie, me lo sono proprio detto, cerco notizie sportive per rilassarmi apri notizie sportive, la prima che mi capita è questa del nostro Janik Sinner ancora rogne per Sinner attendo che siate collegati, perché in questo caso doping sembrava terminato con la soluzione invece qua di terminato non c'è nulla, anzi c'è sorpreso e deluso il nostro tennista il nostro numero uno al mondo, il nostro tennista Sinner, veramente sorpreso e molto deluso attendo che siate collegati per dire cosa è successo perché quello che pensavamo fosse una decisione definitiva presa dall'International Tennis Integrity Agency, LITIA dove di fatto aveva dato il Tribunale Indipendente dell'International Integrity Agency aveva dato una soluzione finale dicendo non è né colpevole né non c'entra nulla Sinner con quello che è successo in relazione al doping a quel marzo 2024 dove è stato beccato positivo dopo il torneo dell'Indian West è stato trovato positivo al doping, sembrava tutto finito senza colpa come hanno detto loro come ha detto l'International Tennis Integrity Agency che ha detto senza colpa né negligenza ecco purtroppo non è così, non è così o meglio è così ma lo vogliono fermare il dubbio più che lecito perché in sostanza è uscita la World Anti-Doping Agency che ha deciso di presentare un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport per la precisione l'ha già presentato il 26 settembre 2024 quindi due giorni fa ha presentato il ricorso dicendo per noi Sinner non è vero che è senza colpa non è vero che non c'è negligenza no no, secondo loro c'è qualcosa di che puzza secondo la WADA, si chiama WADA, WADA, WADA quindi la World Anti-Doping Agency sentite, la decisione del Tribunale non è conforme al codice mondiale anti-doping e l'agenzia chiede una sospensione per Sinner tenetevi forte, vi dico cosa chiede, siete pronti? Sinner secondo me starà tremando, non in questo momento, per me, in questi giorni attenzione, chiede la WADA quindi World Anti-Doping Agency chiede una stima questa è la stima una sospensione per Sinner che potrebbe variare da uno addirittura due anni quindi potrebbe interrompersi a mio parere se dovesse mai ricevere una sospensione di due anni amici con tutto rispetto, è giovane, è al pieno della carriera e della forma due anni di sospensione potrebbe distruggere totalmente la carriera di Sinner quindi attenzione perché non è tutto vero, è tutto vero tuttavia non mira però a ottenere questa decisione questa è l'unica nota positiva, è questa ottenere la cancellazione di ulteriori risultati ottenuti dal tennista ad eccezione di quello già invalidato vorremmo ricordarlo, è stato invalidato il risultato nella competizione dell'Indial West quando venne beccato positivo attenzione, Sinner era risultato positivo una sostanza proibita il costable costable e ha spiegato però che la contaminazione è avvenuta involontariamente tramite un membro del suo team che la utilizzava come crema perdonatemi contenente appunto questo costable per curare una ferita amici io dico che ogni dubbio è più che lecito tanto che è talmente lecito il dubbio che la WADA quindi la World Anti-Doping Agency ha deciso di fare un ricorso e presentare e l'ha presentato impugnando di fatto la decisione di quel tribunale indipendente che aveva dato la soluzione aveva reso di fatto non colpevole il nostro Sinner c'è arrivata però la risposta di Sinner Gianni Sinner si è detto molto sorpreso e deluso quindi c'è anche una sua risposta diretta sull'argomento dopo la notizia del ricorso della World Anti-Doping Agency questa agenzia mondiale la più importante è riconosciuta per l'anti-doping e soprattutto per questo ricorso al TAS al tribunale di arbitrato nello sport in merito alla soluzione del tennista quindi amici l'avventura continua durante una conferenza stampa Sinner ha commentato addirittura non è molto semplice ma non posso controllare tutto sottolineando la sua frustrazione per questa vicenda è un ragazzo giovane e al massimo della carriera ovviamente si sente molto frustrato in questo momento dice parole testuali di Sinner sono convinto che risulterò innocente sarà la terza audizione facendo riferimento alla nuova fase di processo di fronte al TAS quindi a questo tribunale che dovrà valutarlo dopo questa presa di posizione una vera e propria presa di posizione sembra delle volte quasi politico quasi un volere incastrare il nostro tennista quindi dice la notizia dell'appello a quanto pare non è stata una completa sorpresa per Sinner perché ha affermato di essere stato informato della mossa della UADA quindi la World Anti-Doping Agency privatamente da un paio di giorni quindi l'ha saputo prima rispetto ai media ai media amici come dice Renata Chiavazza o meglio come dico io come ripete Renata Chiavazza ogni dubbio è lecito ma che una sentenza venga contestata mai che una sentenza venga contestata è stata contestata Flavio Noventa dice ha messo proprio le facce dei pagliacci quindi penso che sia molto chiaro quello che pense la gente io amici non lo so io non lo so non lo so non sono è chiaro che il dubbio che vogliano affermare Sinner perché è italiano perché è troppo forte perché brucia qualcuno perché ha vinto da un bravo ragazzo ogni dubbio è più che lecito a questo punto amici io vorrei un vostro parere amiche nei commenti vi ricordo anche è uno sforzo piccolissimo segui la pagina di Facebook iscriviti al canale di Youtube so che per voi per me è tantissimo per voi è pochissimo è gratuito basta premere un pulsante se volete farlo fatelo se non volete farlo vi voglio bene ugualmente perché io voglio bene a tutti detto questo vi saluto come ieri che parlavi del Veneto io abito qui e non chiedono niente di solito per l'influenza ok Stefania stai buona Stefania lasciamo stare quegli argomenti parliamo adesso di sport una preghiera per tutti quelli che stanno in questi giorni subendo quello che sapete bene veramente triste la situation ma che scherziamo dice Rosaria Montes no Rosaria purtroppo è tutto è tutto vero è tutto vero amici salutoni dalla California attenzione abbiamo Massimo Orru che è in California ci saluta ciao Orru cosa dicono in California a questo punto lo chiedo l'in California un nostro amico italiano cosa dicono in California di Giannick di Giannick Sinner cosa dicono intanto vediamo i vostri commenti caso Giuseppe dice per Giannick ci sono due problemi la sua giovane età è una federazione di blufoni blufloni blufloni e va bene Fabrizio Bellagami invece hai saputo che è crollato il soffitto alla Spezia no cazzo notizia che vada a cercare Fabrizio Bellagamba bang Bellagamba soffitto dove quando e perché tienici aggiornati qualcuno di voi lo sa che è correlato un soffitto alla Spezia io non guardo i tigi in questi giorni ho evitato perché si parla solo di bombardamenti di qua di là quindi ho evitato a qualcuno brucia dice Daniele Minchio Minchio Minchia Daniele a qualcuno brucia che un italiano primeggi al mondo mi ricorda Sereno Magna che non è molto sereno in questo momento mi dice mi ricorda Pantani attenzione ve lo ricordate Pantani intanto è incredibile non lo sciampi a far collegati in diretta va malissimo la piattaforma eppure parliamo di cose normalissime se è vero il soffitto è crollato Rosaria Montes ma dove dove che non lo so ditemi dove è accaduto sono in diretta con voi non so niente io ho guardato solo due notizie sportive guardate come sono pettinato sembromanto poi il green screen mi fa i capelli verdi in verità non ho i capelli verdi le ho tendenti al bianco si è vero il soffitto Buffloni Buffloni dice caso Giuseppe stai buono Giuseppe stai buono a Lecce a Lecce mi dicono è caduto un soffitto a Lecce cos'è una scuola non ci credo come potevano vivere in Italia ti stimo molto Massimo Orru Massimo ma io vengo a trovarti in California non me lo chiedere più di una volta perché vengo quindi non me lo chiedere parto e vengo abbiamo anche saluti dalla Filadelfia grande Robby chi c'è in Filadelfia ragazzi Vilma Bernardi ciao Vilma ma ragazzi mi state guardando in Italia ci sono i fact checker che mi bannano quotidianamente e mi guardano tutti dall'America praticamente ciao Vilma Vilma Bernardi io a Filadelfia ci sono stato molto carina a Filadelfia me la ricordo è molto molto bella anzi mi ricordo proprio da Baltimore andai diretto fino a Filadelfia in macchina per andare a vederla l'agricoltura italiana è stata devastata da Stai buono Stai Salvatore Galari buono hai ragione anch'io non riesco a vedere i TG mi sgomentano a me mi fanno venire l'acidità di stomaco e quindi evito di guardarli vabbè detto questo caso doping Gianni Sinner clamoroso ancora Roni sì ancora Roni hanno contestato quelli che hanno detto non è colpevole il tribunale indipendente mo finirà di nuovo sotto il torchio della giustizia sportiva perché la World Anti-Doping Agency è accanita contro di lui contro di lui e dice che lui ne sapeva tutto e di fatto in sostanza dicono sei doppato ti sei doppato hai fatto un utilizzo illecito nello sport di anti-doping per il codice mondiale dell'anti-doping e mo ti dobbiamo punire questa è la sostanza della diretta saluto anche da Como e se la verità sono tutti gli sport di doping Fabrizio Bellagamba anche quel dubbio è più che lecito ciao dalla provincia di Viterbo una Roma romana un abbraccio mi dice la televisione è chiusa beh fai bene basta che mostri il culo come quella cantante tutto va bene Salvatore Galari che non sappiamo chi è non voglio saperlo non voglio saperlo vado a vedere del soffitto caduto perché mi avete stuzzicato incuriosito anche se non volevo trattare notizie pesanti oggi perché sono veramente stanco delle brutte notizie vi saluto ciao a tutti buon sabato 28 settembre un'ennesima giornata schifosa a livello di notizie e speriamo nelle notizie belle sportive e fanno schifo anche quelle sportive quindi che giornata ciao a tutti ciao vi voglio bene cortesemente condividete commentate sono due pulsanti uno deve scrivere più cose e seguite seguite per favore seguite 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 Grazie a tutti.